Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per illustrarvi un'altra mini monster, o meglio la versione low carb. Questa lattina piccola, emblematica, unica nel suo design, ragazzi, fatemi sapere se l'avete mai vista. Detto questo, per supportare contenuti tanto unici e innovativi, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Guardate che bella questa mini monster, ha veramente tanto fascino. Classica quanto minimale, fondo nero e logo azzurro, tutto quanto assai sintetizzato praticamente così. Abbiamo scritto in basso Energy Drink, versione da 240 ml, ovvero 8 onge. Diciamo che è emblematica, a dubito abbiate mai visto qualcosa del genere. Ruotando abbiamo la tabella dei valori nutrizionali, o meglio, una sintesi di quelli che sono gli ingredienti tramite una trascrizione e focalizzandoci sul barco ci accogliamo che il codice SCU è 111.2. Le icone dei social ovviamente sono datate al tempo, quindi si tratta di una lattina abbastanza vecchiotta e il produttore è volo. Come vi dicevo si tratta di una low carb ed è unica. Per il lato lungo abbiamo appunto impresso la iconica dicitura. Che dire, molto molto bella ragazzi, nulla da dire. Non poteva essere un video perfetto se non vi illustrassi ovviamente il set low carb. Abbiamo la versione più grande da 710 ml, la versione da 473 ml e alla fine la mini monster. Sono tutte e tre statunitensi, vi mancherebbe la versione low carb da mezzo litro, però ragazzi quella trovarla è un po' un problema. Che video sarebbe se non vi illustrassi tutto quanto il set di mini monster. Sono davvero strepitose, le abbiamo tutte e 5, partendo dalla original, la low carb, la rehab lemonade, l'absolutely e la ultra white. Che dire, anche oggi vi è illustrato una lattina unica e strepitosa, questa mini low carb da 240 ml. È unica perché ragazzi, è emblematica nel suo genere. Detto questo mi raccomando, per non perdervi nessuna novità di questo tipo, contenuti tanto unici, non esitate ora a lasciare un like, a commentare e ad iscrivervi a questo canale. Io concludo qui e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!